ciao a tutti da assistenza informatica online allora oggi riprenderemo sempre un video di quelli precedenti e insomma visto che è stato insomma molto apprezzato quindi ritorneremo a parlare di un particolare settaggio di emule allora perché si fa questo video perché ho visto che nei commenti mi sono arrivate molte e molte mail insomma da voi che avete visto questo video e parlavate insomma mi avete detto come si doveva impostare la velocità di connessione su e vuole alcuni invece hanno parlato per esempio di crediti allora se voi un sindico dato che avete fatto queste domande sicuramente avete visto è già comunque avevo ribadito in quel video che ripeto è stato vedo molto apprezzato che non ho parlato proprio né di velocità di connessione e né di crediti per quanto riguarda il comparto di emule o emule e allora perché ho detto non è stato fatto perché uno ai crediti fra virgolette io diciamo passate il termine non ci credo tanto questo perché perché intanto ricordiamo tutti cosa sono i crediti in maniera molto veloce soprattutto semplificata senza utilizzare tutti questi termini tecnici prende quando si va a installare per la prima volta per esempio emule nei nostri computer abbiamo bisogno di prendere un determinato file in maniera veloce senza aspettare le cosiddette cose quindi senza attendere quel fastidioso file fermo fermo in trasferimenti quindi senza poterlo prende fare il suo download quindi in questo caso chi avrà più crediti prenderà prima quel file questo è il funzionamento insomma di di emule quindi come si acquistano questi crediti si acquistano proveniente con un utilizzo intenso di questo programma quindi più si prende un file più si dà un file perché non deve essere soltanto una presa di un file ma deve essere anche un dare di un file quindi più si dà più si prende un file più si dà un file quindi lasciandolo magari momentaneamente anche a livello di qualche giorno nella nostra cartella in coming perché è proprio quella che fa diciamo fa sì che insomma fa acquistare questi crediti quindi andando facendo proprio il movimento dare avere quindi dobbiamo lasciare per lo più insomma qualche giorno massimo la settimana questi file appena scaricati ricordiamo sempre file che non abbiano né copyright che siano free lasciate lì se una cartella prende in cambio però noi possiamo nel frattempo utilizzare copiare e farne quello che vogliamo sempre nei limiti di legge quindi ripetendo questi crediti prende servono a questo quindi più si fa un dare avere più saremo in alti in cima e quindi più cercheremo un file è molto più velocemente prenderemo entreremo in possesso di quel file quindi perché a questo io ho detto non ne ho parlato completamente non ci credo tanto perché ho testato su varie macchine che anche se partiamo quindi su installazione nuova si parla perché 20 crediamo una scadenza superciù di tre mesi quattro mesi poi credi scari diciamo scadono quindi si deve rifare tutta questa somma questa sorta di di movimento da riavere quindi io sto dicendo che ho installato in alcune macchine proprio nuove quindi dal primo momento quindi zero crediti partiva con la macchina e con i settaggi di apertura porti che ho utilizzato io quella macchina non aveva bisogno di fare questo movimento di dare avere di file perché anche se era zero crediti file partivano veramente veramente in maniera veloce soprattutto con velocità download altissime quindi per questo non credo molto ai crediti però se voi volete insomma che si parli di questi crediti la metodologia è quella che vi ho appena detto quindi dovete portare per chi con tutti i settaggi che vi ho dato va in maniera un pochettino lentuccia e soprattutto non prende subito quel file che voi avete messo nella lista dei trasferimenti in download quindi dovete pazientare un pochettino il tempo che riuscite ad acquisire insomma un pochettino di crediti come si fa come vi ho appena detto con un dare avere quindi non togliete subito quello che difficilmente purtroppo all'inizio riuscirete a prelevare non toglietelo subito alla cartella incoming lasciata da lì un pochettino una settimana in modo che così sia questo momento dare avere che vi farà acquisire sicuramente crede in più vi farà andare sempre più in avanti e sempre come l'utilizzo più intenso del programma in maniera più veloce e spedita quindi questo abbiamo parlato di crediti quel pezzettino che mancava su quel video volutamente e quindi ne abbiamo discusso già ora in questo momento argomento chiuso i crediti sono soltanto questi qua per quanto riguarda l'altro argomento è sempre la velocità di connessione che vedo che un argomento che interessa proprio perché è un altro pezzo che io volutamente non ho spiegato nel video quello di il mule proprio perché diciamo che non si può stare sempre appresso dato che questa è una un settaggio che va in base alla nostra velocità di connessione la velocità di connessione voi ben capite che non è ogni giorno addirittura nemmeno ogni giorno nell'arco della giornata può cambiare dipende quante persone sono collegate a quel doppino nella vostra rete quindi dipende quanti dispositivi avete collegati nel vostro wifi quindi dipende da molti fattori quindi se magari una mattina non abbiamo diciamo possiamo trovare un speed test una velocità per esempio in download da 800 e in upload da 600 capite bene magari il pomeriggio che c'è più gente la sera che c'è più gente più a casa e magari avete collegato dispositivi come chi sta giocando con la console chi guarda la tv magari collegata a qualche browser internet oppure qualche piattaforma di streaming di video vuoi che magari stai utilizzando nel frattempo il pc con il mio all'aperto quindi capite bene che se fate uno speed test la connessione scenderà di moto perché quella connessione che inizialmente la mattina era di 800 su 600 magari di sera sarà un 400 su 200 e così via quindi siccome è un parametro proprio la velocità di connessione che è un calcolo che viene fatto ora vi spiego in modo è così poi da soli potete andare a inserire perché è veramente semplice anche se parlando ne può risultare complicato ora un cammino inquadratura proprio vi faccio vedere il calcolo come viene fatto è un calcolo che ahimè cambia sempre in base alla connessione quindi non possiamo stare appressa a questo calcolo ogni giorno di andarlo a modificare in velocità di connessione quindi sia in upload che in download quindi in questo caso io sempre cosa consiglio di fare uno non ne ho parlato perché sempre in fase di test mettendo anche tutte e due spunte tolte quindi non inserendo le due spunte nessun quindi lasciando libero completamente sia la velocità in download che in upload il il problema sui mil non sussiste quindi va perfettamente bene sia in upload che in download quindi possiamo anche lasciarlo libero soprattutto magari i primi tempi proprio per tutte quelle persone che hanno appena installato quindi si trovano a zero crediti che hanno appena installato i mule parente dobbiamo andare a magari suggerire proprio di togliere la spunta soprattutto una velocità in upload per permettere proprio alle persone di prendere più file possibili da noi quindi in questo caso anche per un mese che potete lasciare libero questa spunta non obbligato magari poi la possiamo andare a calcolare anche dopo un mesetto per chi invece sa fare benissimo questo calcolo ancora ve lo spiego semplicissimo direttamente può andare a inserire questa velocità facendo uno speed test preferibilmente calco facendo un calcolo diciamo super giù preciso senza collegare tanti dispositivi quindi magari staccate momentaneamente tutti i dispositivi possibili ne tenete soltanto uno per farlo il vostro computer per fare proprio uno speed test preciso super giù della velocità della linea che avete voi che vi fornisce il vostro isp quindi che possa essere passo di infostrada che possa essere anche telecom ruba quello che sia il vostro isp e si va a fare un calcolo diciamo super giù preciso e va settato quello senza poi prendere perderci diciamo tanto più tempo su questo parametro lo mettete la solo una volta anche se poi varia la connessione in base alla giornata in base ai dispositivi credetemi non succede niente perché già vi ho detto che anche se li lasciamo liberi non succede completamente nulla quindi appunto per questo in quel video mancano questi due settaggi perché li ritengo i settaggi un po' superfici ma non obbligatori ecco due passaggi che non sono obbligatori perché testando il programma devo dirvi funziona perfettamente ugualmente quindi che altra cosa c'è da dire credo insomma che abbiamo visto già in maniera teorica tutto tutte e due comparte se crede chi crede non li andremo a vedere a video ora vedremo soltanto appunto la velocità di connessione quindi come al solito cambiamo le inquadrature andiamo a vedere perfettamente questo calcolo che si deve andare ad effettuare vi ricordo che sono parametri che possono essere inseriti in qualsiasi momento quindi non c'è bisogno di andare a disinstallare i mill fare di nuovo tutto il settaggio delle porte questi sono parametri che possono essere inseriti in qualsiasi in qualsiasi momento anche quello delle porte dico chi ha già i mill installato da anni non lo vado a togliere anzi fa male a toglierlo il settaggio quello che ho dato io è perché ancora non adesso ovviamente emule quindi si parte proprio dal download del programma l'installazione il primo wizard però per chi ha già installato emule può saltare ovviamente alla fase del download del programma e può passare direttamente al settaggio a volte che può fare in qualsiasi momento in qualsiasi momento possono essere rivisti insomma tutti quei server che sono scaduti quindi fra ricolette abbiamo detto che ve ne accorgete quando diventano un pochettino sviaditi quel grigio sviadite non nero e nemmeno blu che significa il server reattivo quindi potete comunque andare a effettuare tutti questi settaggi anche ad emule installato da anni quindi massima tranquillità perché sono settaggi che si possono fare in qualsiasi momento cambiamo subito in quadratura e non perdiamo altro tempo perfetto allora eccoci qua prente sulla piattaforma di emule allora come ben visto insomma abbiamo parlato l'altra volta della versione 0 70 come vedete in questa macchina c'è la 0 50 a quindi è una 0 50 ufficiale per lo più aggiornata la versione a quindi ripeto fino ad oggi non scaricate la versione 0 70 perché crea problemi di velocità quindi se fra virgolette ci aggiungiamo pure che emule magari la prima volta che lo state installando allora in accoppiata gli mettete anche la 0 70 succede un bel problema quindi teniamo la 0 60 o la 0 50 ufficiale come in questo caso quindi il parametro di cui vi parlavo io è soltanto il parametro della velocità di connessione dove andiamo a trovare con questo parametro semplicemente dovete andare in opzioni questi quindi questo ingranaggio clicchiamo dentro e se andate a voi su connessione che riguarda proprio tutta la connessione fra virgolette anche le porte aperte ricordo tcp e udp quindi per la tcp 46 62 e per la udp 46 72 quindi in questo caso noi dobbiamo andare come vedete voi io le spunte le ho tolte in questa macchina completamente proprio perché non da nessun tipo di problema però per tutte quelle persone che continuano a dirmi come calcolare questa velocità o che velocità andare a mettere benissimamente voi dovete andare a fare un calcolo in particolare quindi i valori andranno messi qua una volta che noi andiamo a flegare le due iconcine quindi capite bene qua possiamo andare a salire o scendere in k byte al secondo in base alla velocità della nostra connessione quindi cosa si va ad inserire in questo caso la prima cosa andare a fare andare a fare un test speed quindi volete andare su un sito di internet in una pagina bianca la nostra barra di indirizzi possiamo andare a scrivere test speed o speed test quelle volete voi possiamo eseguire il test della velocità direttamente da qua e lui farà prende un test della velocità in download come potete vedere qua sotto come prima ipotesi e poi la velocità in upload quindi in questo caso è uscito un parametro nel frattempo nella linea ci sono collegati parecchi dispositivi quindi magari le velocità saranno molto più alte in questo caso avremo una velocità in download di 288 quasi e di 151 in upload quindi voi dovete intanto memorizzare questi due numeretti che vi escono qua andiamoci per grado prima dobbiamo andare a dividere per 8 queste due velocità quindi prendendo una semplice calcolatrice ci possiamo aiutare con la calcolatrice che abbiamo nel nostro windows e basta che scrivete calcolatrice vi spunta questa bellissima calcolatrice la mettiamo qua accanto e dobbiamo andare a prendere questo parametro in download quindi 28 7,9 dividerlo per 8 e ci darà un valore di 35 e 98 quindi possiamo andare anche benissimamente a prendere il 36 come valore quindi scriviamo anche 36 come risultato questo 36 non può essere messo subito su emule qua in download perché noi ricordiamo ci stiamo visualizzando questa velocità in download non può essere subito inserito qua ma qui cosa dobbiamo andare inserire dobbiamo andare a inserire l'ottanta per cento del risultato quindi l'ottanta per cento di 36 se il 100 per cento è 36 l'ottanta per cento capite bene che sarà meno di 36 quindi in questo caso dobbiamo prendere l'ottanta per cento di 36 il calcolo come viene fatto semplicissimo calcolo matematico dobbiamo moltiplicare per 80 il risultato dividerlo per 100 quindi 80 su 100 uguale 28 e 8 quindi capite bene che da 36 è scesa 28 e 8 che è proprio l'ottanta per cento di 36 quindi in questo caso in download e andrò a metto una velocità su per giù di 28 e 8 che possa essere anche 30 perché 28 e 8 non lo possiamo mettere dato che 28 e 8 è quasi vicino al 29 possiamo anche lasciare 29 stesso procedimento verrà fatto praticamente nella velocità in upload quindi come primo calcolo 151 e 5 verrà diviso per 8 quindi andiamo a riprendere la calcolatrice e scriveremo 151,5 diviso 8 uguale 18 e 93 benissimamente per un risultato molto più veloce possiamo mettere anche 19 va benissimo anche 19 di questo 19 ricordiamoci che solo l'80 per cento ma inserito in upload in questo caso quindi stiamo facendo il settaggio per l'upload quindi stesso procedimento 19 per 80 il risultato diviso 100 quindi in questo caso dobbiamo andare a mettere una velocità poco più di 15 quindi andrà bene anche lo stesso 15 quindi qui su emule in upload andremo a settare avete visto bene che già la velocità massima era 16 quindi non sarebbe cambiato molto perché già comunque lui una connessione lui nella stabilisce in automatico comunque i mule perché i mule già riesce a capitare molti dati della nostra connessione quindi andiamo ad abbassare soltanto di una tacchetta in questo caso non rimane soltanto che fare applica ok mi raccomando non cliccate direttamente ok perché al prossimo riavvio perderete questi settaggi quindi applica ok in modo che se andiamo di nuovo su opzioni connessione vedete bene che è rimasto il settaggio per come è insomma benestimamente emule già settato con il calcolo del diviso 8 e l'ottanta per cento quindi come avete insomma ben visto il calcolo di della velocità di connessione quindi sia in download che in upload viene fatto in questo modo quindi molto più semplice di dirvi che già insomma dirsi è abbastanza semplice quindi basta dividere per otto la velocità si in download che in upload e poi prendere di quel risultato soltanto l'ottanta per cento andarlo a mettere sia in upload che in download del vostro programma emule e chiudo poi il video dicendo che molte persone mi hanno detto voi insomma seguite settaggi eccetera 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 qual è la velocità e crede insomma tutte queste domande che già abbiamo visto e in più poi mi dicono io come linea o fast web allora ripeto che questo video non è diciamo adatto per utenti fasso perché gli utenti fasso hanno fra virgolette anche la fortuna di avere un in nulle proprio costruito a parte proprio costruito ad hoc per loro e ricordo che loro proprio devono partire dal video non come parto io quindi andando a fare il download di in 1 0 50 0 60 o chi vuole provare la 0 70 da pochissimo che comunque per ora sconsiglio loro devono partire con il video andando proprio sulle sulla dunanza quindi aprire una pagina internet andare su i mule adunanza e fare il download di quelle di quelli i mule proprio di preciso costruito ad hoc per gli utenti fasso ricordo già e quelli nella dunanza è già tutto presentato proprio perché proprio costruito per loro quindi per tutti gli utenti fasso quindi consiglio sempre a tutti gli utenti fasso di andare a fare il download di nulla dunanza e l'utilizzarlo così per come senza mettere nemmeno un settaggio se diciamo vi trovate con problemi di connessione velocità e porte allora sì che potete seguire però la seconda parte del video quindi da quando si parla dall'apertura delle porte dai server che avranno server sempre diversi quindi attenzione server non scarichiamo sempre quelli che vi ho detto io nel video adunanza avrà sempre sesso medio quindi andare sul sito server.met eccetera eccetera per andare a prendere soltanto la stringa se voi ci fate casa andate più in basso andrà ci sarà scritto per gli utenti fasso quindi andare a prendere soltanto i server proprio per gli utenti fasso perché hanno un metodo di dare avere completamente diverso rispetto al normale emul 050 060 o 070 quindi ripeto potete prendere solo qualche settaggio però attenzione che settaggi sono diversi non l'apertura delle porte ma per quanto riguarda il download di emul è diverso per quanto riguarda l'aggiornamento della lista server è diversa quindi un po di attenzione a questo punto però poi siete molto 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 più agevolati è più fortunato dato che avete un emul completamente dedicato spero allora che con questo video abbiamo chiuso diciamo la cerchia dei settaggi comunque se ne uscirà qualcuno in futuro ma credo proprio di no perché è vero sì che è un programma che è stato aggiornato ora ma dopo dopo tanti tanti anni però già un programma talmente funzionale che non ha bisogno chissà di quale stravolgimento quindi comunque spero che con questi altri due argomenti abbiamo concluso abbiamo trattato proprio a 360 gradi il comparto di emul e a tutte quelli utenti a tutti quegli utenti tutte quelle persone a cui mancava proprio questo settaggio un chiarimento delle velocità sia in upload che il download quindi in generale di connessione e soprattutto capire i crediti abbiamo completamente chiuso è dedicato proprio un video insomma a tutte queste domande che non hanno comunque trovato risposta io cerco di rispondere il più possibile e di tranquillizzare perché erano due settaggi comunque che proprio mancavano volutamente in quel video abbiamo visto il motivo perché comunque sono settaggi che possono anche essere omessi spero insomma a tutti che vi sia piaciuto questo video e ci sicuramente ci vediamo con il prossimo video in futuro ciao a tutti